Perchè in inglese, agente segreto? Ehi, in game, hola, sono in live. Passa a vedere Vodafone mentre vedi la live. Io vado, ah che bello, me ne vado a dici, grazie Black Gamer, grazie Black Gamer 260, mi hai salvato da un game fidone. Mi spiegate perchè c'è, sono confuso. C'è Zoe, con il Grasp. Mi dicono che Grave Stop. No vabbè perchè lui è Mele e lui è Mele. Avete capito? Non ci vengo più a Palermo, sbroccolo, non ti preoccupare. Tanto Palermo non mi ha fatto l'accoglienza felice che mi aspettavo, quindi non mi conosce nessuno, nemmeno mia madre mi conosce. Mia madre si guarda i miei video su YouTube, ragazzi. Questo è grave, questo è grave. Mi ha detto devi fare più video come quelli che hai fatto per Yotobi. Sei zitta. La cosa triste, sapete qual'è, è che lui è il Ranger, di suo nome Mele, abbiamo la stessa farm. No ma sei ancora qui Alexio, allora chi è che sei andato? Erano quattro gli spettatori. Tornate! Marco io o me sono dovuto andare? Sì sì. Hai che deve essere alle spalle. Lo so. Ho anche la ulti, capito? Allora scappa. No. Prima lo uccidi e poi scappa. Eh. I am your worst nightmare. Sono il tuo peggiore incubo. E adesso che fai che non hai la spell per scappare? Dimmelo, forza. Ti rallento. Itto. 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 Morto. No ho vinto. Anche Daniela ha vinto. Anche Daniela ha vinto. No. Che è mo pagliaccio. Parma. Parma. Oh. Io ancora la ultia. come ho schifato quella spell con la mia E. mi dicono dalla chat nel dubbio ultala perché so quello che mi dicono dalla chat nel dubbio ultala. Anche la chat. Sa. Che è schifo di danni fai Marco. Marco che è schifo di danni fai. Hai visto il mio farm vero? Far vero. Eh. Levo Rengar e poi sul tippy top. Rengar. Mi c'ho. Levo Rengar che ti manco un minion così. eh guardalo. Uff. Uff. Solo che non è stato di interesse in questo. Ma mi do fare il Lich vero? Lich Bane. Cosa Bander là? No. Ti odio. Non l'ho preso. Io mi vuoi dare. Ros che ti odio. Arrivo 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 arrivo. Uccidero? Uccidero. ok io ho fatto il flotto due realtà no mi sto curando col red, torno in fight ma che bella venga, non fa danno ragazzi io sono iniziano del drago buono io penso di essere ci arrivato no ma quello funziona a diamond, non hai capito allora io le ho fatte io penso di essere a 17.000 probabilmente per la mega farmata 12.000 yes 12.000 uuuu S con Trindamer cosa avevo detto io? 17.000 l'importante è che sappiate che questo è il primo game che gioco e questo è il primo game in cui gioco Graves perfetto, bot lane carriaci leave nothing behind complimenti grazie Spotify che ho vinto no 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 niente tranquillo mi piace Graves 4H oddio Kane stava venendo a tranquillamente e invece ebole ebole quella ulti è stata proprio utile ah 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 hai ultato ah no lei la ulti ce l'ha a spam vero? si ah bello quindi come karma tipo no 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 quasi ti amo colpo di scena colpo di scena colpo di scena mh colpo di scena mh come ti permetti? smettila io lascio stare ti hai fatto uccidere più che alciassare no no mmm all of maine non è vero il primo game ti uccide tantissimo prendiamo ma chi mi uccide tantissimo? mia zia c'è pure caino c'è pure caino c'è pure caino oh che danni hai fatto oh oddio ma con che danni me lo stai dicendo? io ti dico che con la Q ti toglie a un po' vai 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 c'è l'initro lo so oddio vieni verso di me vieni verso di me ma cosa sono scappato ah oddio no dai ho perso 12 anni di vita ma tu mi dicono che dovete farvi resistenza magica tutti tutti hai visto? eeeh scusate pensavo che ci vincevate no arriva Zoe arriva Zoe ciò vabbè ci sono anch'io ci sono anch'io mi è addormentato però non mi faccio danno io eh sì però io sì è abbastanza tanto danno davanti a lei davanti a lei così si countera quella feccia così oddio no ti è real entragli tutto suona male per qualsiasi cosa in teoria in pratica non lo so ah no no quel tempo comunque non va bene non va assolutamente bene col champion dovrebbe essere un po' ok no sono dio ma Brando ma Brando dica Brando muta 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 puta dai sto scherzando dovrebbe essere sempre così cattivi come tutto perché sono più piccolo esatto mi chiama nonnismo ma sei più piccolo o ce l'hai più piccolo poi provaite prominente 362 In qualunque caso è comunque sceno 700 Rettivida Lut L'avremo adesso Vediamo cosa mi esce Una leggendaria di corchi Ice Toboggan Corchi, carina God First God Firstly Sin Con 5 euro Ho preso 20 euro di skin Sono top Allora, per quanto mi sia piaciuto tantissimo Giocare Traindamer Ma anche proprio Mi piace Soraka Gianna non tanto Riccardo perché la gioca Voi sapete chi Alessandro Alessandro Sono qualche indicabile No, no, lui gioca top Support e gioca Gianna Mi piace Gianna Braum Gianna Braum E non mi ricordo chi Blizzcrank Gli piaceva giocare Quando non aveva lag Cioè mai Manca Lissandra qua No, è qui Lissandra Se vuoi Proviamo a fare No, non proviamo a fare niente No, io sono morto di nuovo Potenza di nuovo Se è bot Volete farlo L'Infernal Andiamo Vieni, vieni Puttalo Perfetto, perfetto Arrivo, arrivo, arrivo Non chiedete come Cioè in realtà so come Ha sbagliato lui la ultimate Ragazzi fate andare avanti me Io sono il bait Cosa? Cosa? Mamma mia Ringrazio Ringrazio il Darius Ok Darius Dovete vincere contro sti razzisti De merda Questo è Jack So che parla E per te vincerò Jack Arrivo, arrivo Quella Miss Fortune però La prende lui L'hai presa, perfetto Posso aiutarvi a prendere quelli che scappano Tipo così Boom The Dunk Master Due Bello Infernal No, no, no No, è Darius Non è Infernal Corri verso di me Corri verso di me La tua Mi sono salvato Ok, mi sono salvato Lasciatemi prendere la giù fatica Oddio Questa era la mia penta Ma non importa Fatevele voi le kill ragazzi Andiamo a vincere The Hunt is on Vai, vai da lì Vai da lì Ragazzi arrivo, c'ho la ulti Aspettate Non posso lasciare la torre La prendono No Dani Perfetto Gravis, fatti quella wave top Sì, ok, arrivo alla torre Morto Bella Bella, 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 bella Ma perché mi prendono il mio champion? Giochiamo a Xayah Rakan Sai a Rakan Quando vuoi Quando vuoi Quattro Tre Due Uno Bello Bellissimo Bellissimo Ho perso 800 milioni Ma chi se ne frega Daniele Allora potevi dire Clock Ho fatto la battuta Eh Ma Ragazzi vieni qua Easy Easy Non l'è? Dov'è il martello? Martello Magari Non ho continuato solo perché non mi faceva fare altre pizze No No Comunque Brown penso che sia un po' Ha flashato Brown Ha flashato No Sicuro che ha flashato Ora ha flashato Ragazzi Bot 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 Vieni con me Vieni con me Vieni con me Dai Ho anche la ulti La killiamo La killiamo No no Ci attaccherà perché si crea forte Non ci sono Ti credo Ti ripeto Si crede forte Quindi ci attaccherà Eh sono troppi Bravo Graves Hai visto? Attenzione al Lux Attenzione che c'è la OI che sta arrivando Il Joke Il Joke Il Joke Il Joke No ma adesso Lux Non lo posso colpire lui? No Buono 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 Non l'ho preso? Non l'ho preso? Sono nabbissimo Marco Sono nabbissimo Faccio veramente pena, pietà e compassione in inglese It's real Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando GG Barron 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 Hello Guys C'è Braum Che ha sbagliato la ulti Cucciolo Lux No ha fatto Dan Lux Non so perché E forse lo so Ma Dov'è? Sono morto Sono morto Sono morto Almeno faccio il pitano possibile No è che siamo andati sotto la seconda torre e questa c'è ancora Non mi interessa Il Lallaloi è morta Il Lallaloi Il Lallaloi Marco io arrivo Marco Dovevo il car Non pensavo che mi uccideva Comunque scherzo No tranquillo Non me l'hai presa comunque Lo so che sono scarso Sono io il primo a dirlo Non è passato io vado Ciao Botlane Alla prossima Certifier A posto Ragazzi Oh scusami Dolle Ho pure flashato And that's why Never surrender Ma no no Non dobbiamo sorrendere Facciamo 23 kill Che vuoi sorrendere? No il vice Stavamo straperdendo Ma chi? Tu top? Voi Eh sì Io e la vice Ah ecco Ho preso S con Xayah Che schifo Che schifo Xayah Guarda Guarda i danni Che schifo Xayah Ragazzi io spero che questa live vi sia piaciuta Spero che vi sia divertito in quanto mi sono divertito io E spero di rivedervi alla prossima live Che probabilmente sarà domani Ciao ragazzi Ciao bello